La filosofia tennis fin dall'inizio è stata quella di aggiungere valori al diagramma e quindi non commerciare semplicemente ma fare ricerca e sviluppare soprattutto qualcosa che sia il vero valore aggiunto. Il vero valore aggiunto per la tennis è in questi oltre alla capacità di vedere il mercato e sviluppare prodotti in forma di hardware che rispondano ai requisiti dei clienti, anche e soprattutto quello del controllo completo del prodotto che passa per il software, che nel caso di lui si chiama stacca protocollare, che è responsabile del funzionamento del prodotto. Questo è il caso di VR, il prodotto che è un software che è fino a un milione di giorni ricordi, che dà un'idea nella pubblicità e poche aziende hanno questa capacità, non più di 10, più o meno, al livello mondiale, credo più o meno. Grazie.